Stai sulle prime pagine di tutti i giornali. Sarai contento? Sono solo contento che non ci sia tu, Tony. Ieri notte ho ricevuto una telefonata. Giuliano morirà. È per questo che non possiamo offrirgli un altro bersaglio. Ma che cazzo di mestiere facciamo, Boris? Lo so, Tony. Lo so. Però tu glielo devi dire anche agli altri. Devi chiedere la tutela, devi andartene da Palermo per un po'. È proprio quello che vogliono. Intimidirci e stabilizzarci. Ma secondo te perché la minaccia è arrivata proprio adesso? Adesso che siamo a tanto così dalla verità. Sì, ma non è giusto che tu ti carichi tutto sulle spalle. Boris, noi siamo una squadra. Tony, fammi una promessa. Se uno di noi dovesse succedere qualcosa, facciamo in modo che il corpo non lo veda nessuno. Nessuno. La squadra deve continuare a vivere. Con me o senza da me.